Amici di Cioccomo, fine settimana all'insegna dell'arte qui a Palanzo di Faggeto dove Stefano Ceresa e i suoi amici hanno allestito una mostra davvero molto particolare. Stefano ce ne parli allora velocemente? Sì, è una mostra, il titolo dell'evento è Palanzo in mostra, dove vengono invitati degli artisti ad allestire, a pensare a un'installazione artistica all'interno del borgo medievale del paese e in concomitanza con queste esibizioni e queste installazioni ci saranno degli eventi corrateari che riguardano la musica, il cinema, la letteratura e la fotografia. Si divide su Spalma su tre giorni che riguardano il sabato 15, 22 e 29 di questo mese e oltre ad ammirare queste installazioni artistiche, questi eventi corrateari... Tra l'altro è proprio nel clou del paese, è un paese molto particolare, arroccato, possiamo definirlo un vecchio borgo? È un vecchio borgo medievale rimasto intatto nella sua storia e nelle sue tradizioni, la strada finisce a Palanzi-Faggetolario e rimane un po' isolato, non è stato contaminato anche rispetto agli altri paesi, comunque bellissimi, questo rimane un po' più medievale, un po' più caratteristico. Chi non lo conosce invito a visitare il Torchio del 1500, la Torre Medievale del 1300 e la bellissima chiesetta della Madonna del Soldo dove lo scenario è pazzesco. Quindi l'invito veramente per questi weekend di giugno, giusto a Palanzo, Palanzo in mostra, facciamolo vedere, eccola qua, perfetto, benissimo, grazie Stefano, grazie a voi, grazie.